Da un piccolo laboratorio artigianale, è una realtà di riferimento che raggiunge più di 40 paesi nel mondo, nel settore delle uova e degli ovo prodotti. Il gruppo Eurovo celebra l'11 ottobre, giornata mondiale dell'uovo, puntando sul legame tra tradizione e innovazione per raccontare le infinite potenzialità dell'uovo e sceglie il maestro pasticcere Gino Fabri come ambasciatore della qualità e del gusto per Elite Eurovo Service. Federico Lionello, responsabile commerciale e marketing di gruppo Eurovo. Il gruppo Eurovo nasce 70 anni fa, oltre 70 anni fa, per un'idea innovativa di mio nonno. Nasce da un'idea di fornire non tanto l'uovo in guscio, ma quanto gli ovo prodotti alle industrie e alle pasticcerie che ne avevano bisogno per ovviare alla sgusciatura manuale e dare un prodotto già pronto. Questa idea innovativa negli ultimi 70 anni è cambiata moltissimo, naturalmente ha avuto un'evoluzione enorme e ha portato oggi il gruppo a essere uno dei primi gruppi europei in termini di produzione, di stabilimenti, di esportazione. Esportiamo in oltre 40 paesi nel mondo, abbiamo stabilimenti in 5 paesi in Europa, abbiamo oltre 2.000 dipendenti, quindi ci siamo ingranditi molto, l'azienda rimane basata sulle tradizioni e su ciò che i nostri nonni ci hanno trasmesso. Quando parliamo di elite diciamo molto più di un uovo, perché dietro un uovo c'è moltissimo, non c'è esclusivamente quello che nell'immaginario comune si pensa, ma c'è una ricerca della perfezione. L'uovo è perfetto in sé e noi che siamo in questo lavoro qui cerchiamo la perfezione, cerchiamo l'eccellenza. Quale binomio migliore può essere l'eccellenza di un prodotto come elite con l'eccellenza di un maestro pasticcere come Gino Fabri? Sono stati realizzati contenuti per i profili social del gruppo, un video racconto a testimoniare cosa significhi molto più di un uovo insieme a ricette che portano la firma del maestro Gino Fabri. Questa richiesta che è stata fatta effettivamente mi ha mosso un po' di curiosità, perché? Perché io magari sono nato in campagna, però adesso è già da tanti tanti anni che uso le uova in laboratorio e con mia figlia tante volte non sappiamo ancora adesso quale possa essere tutto il processo produttivo. Che cos'è successo? Che con Eurovo invece abbiamo fatto questo esperimento, tornare alle radici, dall'allevamento a vedere dove ci sono le galline, a vedere come vengono gestite, fino al momento in cui viene impacchettato questo tuorlo e con le tecniche più moderne, dove ci sono delle sicurezze che sicuramente ci proteggono e ci danno la possibilità di lavorare con tranquillità nel nostro laboratorio. E questa è stata per me l'esperienza più bella, perché abbiamo vissuto proprio dalla partenza fino alla fine, dalla nascita diciamo così dell'uovo fino alla fine. Le ricette più importanti naturalmente quali sono? Quelle della memoria, quelle che ci ricordano la ciambella, lo zabaione, il pan di spagna, il tiramisù e la zuppa inglese per parlare del territorio. Perché? Perché quelle sono sicuramente quelle che rimangono impresse, ma rimangono impresse a noi come utilizzatori professionali, ma nello stesso tempo noi siamo anche utilizzatori finali, perché quando ci troviamo davanti a un bicchierino di queste sicuramente ce le mangiamo. Ecco, queste sono le ricette migliori della mia vita.